Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore, divino, in questo giorno di grazie, prego per te, Ave Maria, piena di grazie, Signore, che sia fatta la tua vita, cosa in cielo e cosa in te, nel Padre, il Figlio, il Signore, il Santo, amico. Grazie, chiedo a te, Signore, grazie a te, Signore, almami, con obi, coni, coni, coni. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti